Anche a Cremona le cremazioni sono in forte aumento. Tra il 2015 e il 2016 sembra che le richieste siano quintuplicate, passando da 500 a 2500, come ci conferma l'architetto Mino Galetti, storico funzionario del Comune di Cremona e da sempre presidente locale della Socrem, società cremazioni nata a Milano nel 1876 e che vantava tra i primi soci addirittura Giuseppe Garibaldi. Questo incremento si è verificato una prima volta qualche anno fa quando la Chiesa ha liberalizzato la cremazione, non considerandolo più un atto di insofferenza nei confronti della Chiesa, ma una scelta a prescindere dalla religione e dalle pratiche religiose. E la seconda, ancora più importante, qui a Cremona, quando si è costruito il forno nuovo. Cremona è stata una delle prime città ad avere un impianto di cremazione. Dopo Milano e Londra arrivarono gli impianti di Lodi e di Cremona. Attualmente è ancora presente al centro del cimitero urbano. L'impianto entrò in funzione nel 1881. Come si legge su una targa, a vivida fiamma purificatrice, non a sepoltura di corrompimento, diamo le salme dei nostri cari. Ma perché proprio Cremona? Perché probabilmente a Cremona allora c'era una grande attenzione ai problemi del futuro, tra virgolette, e una forte componente culturale di tipo avanzato rispetto alla media, diciamo, nazionale. A costruirlo i soci dell'epoca della Socrem, che rappresentavano l'elite della cultura cremonese del tempo. L'impianto è rimasto in funzione fino a poco meno di tre anni fa, quando è partito il nuovo polo di cremazione. Veniva alimentato a gas metano, ma fino agli anni 50 era stata utilizzata la legna raccolta dai soci. I soci hanno contribuito per moltissimi anni alla fornitura del materiale per la combustione, che consisteva in raccolta di legna e residui delle piene del po'. Ma perché un cittadino dovrebbe aderire alla Socrem? Prima di tutto, come dicevo, abbiamo sgombrato il campo dalla insofferenza religiosa. A ciò si aggiunge anche, non indifferente, l'aspetto economico, perché oggi come oggi lei mi insegna che morire è diventato un lusso, con cifre esorbitanti. Con la Socrem le cifre si riducono notevolmente, con la cremazione voglio dire si riducono notevolmente, e con l'iscrizione alla Socrem direi addirittura si abbattono, perché la Socrem fa un servizio di, diciamolo, chiamiamolo di calmiere. In un certo qual modo. Una sorta di convenzione. C'è una convenzione con tutte le imprese delle pompe funebri di Cremona. La cremazione si rifà, nel corso della storia, ai movimenti scientifico-positivisti, agli ambienti medico-igienisti, con una forte componente di ispirazione laico-massonica. L'idea è che con la cremazione ci sia più rispetto per i resti del defunto. Ho visto delle esumazioni. Indubbiamente la cremazione, questo aspetto, lo porta via con eleganza, presentando un sacchettino di cenere. Come ha detto giustamente, con un po' di ironia, il Don Mori, sono 1500 grammi di cenere, che vengono racchiusi in un sacchettino, che sono poi quello che resta di noi. Ora si pensa di conservare il vecchio impianto. La lunga ciminiera è stata demolita qualche anno fa, sostituita da un più modesto cammino. Per il recupero si punta a un accordo con il Comune. Per adibirlo a museo, raccolta storica, non soltanto della cremazione, ma anche più in generale del cimitero. Noi abbiamo già predisposto un concordato da fare stipulare con l'amministrazione comunale e a quanto mi risulta dovrebbe andare in giunta molto presto per la sua definizione.